Poggio Stai facendo il video? Sì Ti rallenti la discesa e quindi... Ma perché è il carrello fuori? Fanno più a piano Ah no, arrivi a sedere? Eh sì ... ... ma anche questo è basso ha fatto i pezzoni? no dici no secondo me ha acceso il post busciatore guarda lì, guarda che virale questa è una partenza quello era a passeggiare grazie a tutti ora è lentissimo certo che è così iper silenzioso senti 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 è tanto gas ora per fare la tuta stand forse senti andiamo a dirti un bichino tipo da posta tipo sparati su una spiaggia così grazie guarda come dicevi che è arrivato qua si si, quella è per la velocità del suono che va forte il meno bravo lo metti lì nell'angolino fa pochi dati l'abbiamo perso ma è uguale certo se quello in mezzo invece tira uno starnuto adesso un cazzo ragazzi mi soffia il naso sembra un tre cioè sembra una sembra un corpuno corpuno che si è diviso il capo battaglia quello si è il sanitario il capo ma questo è il cuore no non è il cuore ragazzi è il ciclo non è però si è il ciclo ga grazie ragazzi 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 bello questo, questo è bellissimo è bellissimo Sì, cosa vuoi dire? È un drone con un mare. Mamma mia. Sì, come quell'altro. È fermo. È una stalla, vero? Sì, sì. No, ma non era stalla. Semplicemente si è fermato. Sì, ma non è stalla. Bello, ha il fuoco d'artificio questo. Ritorna tutto in piedi. È bellissimo. 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 Guarda come fa la vita aprile. Esatto, sì. L'azienda è preda. È bellissimo. 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 Grazie a tutti